Ieri sono andato a mangiarmi una carbonara e mi hanno fatto una cosa orrenda con la panna e la cipolla Mi hanno detto che voi siete più forti a Roma a farla, me ne puoi fare una? Certo va, vieni che ti insegno a fare la vera carbonara Allora, innanzitutto caliamo lo spaghetto Prendiamo il guanciale, la matrice, e lo mettiamo in padella a sudare Questo caccia tutto il suo grasso e renderà la nostra carbonara speciale Separiamo il bianco da rosso, due bei pugni di pecorino e un pochino di parmigiano Mettiamo un po' di pepe nero, mentre il guanciale è sudato andiamo a girare l'uovo Non deve venire una crema, l'importante è che è amalgamato Andiamo a scolare il nostro spaghetto Un minutino in padella, prendiamo il nostro composto Ultima amalgamadina con un po' di pepe Mettiamo il pepe, tanto pepe, perché sulla carbonara ce va